Giuseppe Giovinco Siamo da una parte contenti, dall'altra rammaricati per non aver portato il risultato a casa Non sono arrivati i punti, però è arrivata la conferma che il Pisa se gira, se gioca come sa è un osso duro per tutti No, ma noi l'abbiamo sempre saputo, dobbiamo essere solo più convinti delle nostre potenzialità e continuare su questa strada